Ed eccoci arrivati alla fine di questa serie sulla linea di comando. In quest'ultimo video, della serie, non che non faccio più video, eh? In quest'ultimo video, dicevo, facciamo un accenno allo Shell Scripting. Prima di continuare, ti ricordo che io faccio video dove parlo di Linux, di programmazione e di retrocomputing. Se questi argomenti ti interessano, iscriviti al mio canale, attiva la campanella, commenta e metti un like a questo video. La Shell è un linguaggio di programmazione vero e proprio, come abbiamo potuto vedere, per esempio, nello scorso video col costrutto for. Uno Shell Script non è nient'altro che una serie di comandi della Shell contenuti in un file. Partiamo, per esempio, dal costrutto for per convertire le immagini PNG in JPEG dello scorso video e facciamo uno script che fa la stessa cosa affinché diventi un comando unico. Iniziamo creando un file di testo col nostro editor preferito. Io l'ho chiamato jpg from png.sh, ma tu puoi mettere il nome che più ti piace. Per convenzione, gli Shell Script hanno l'estensione .sh, ma in realtà puoi anche non mettergliela. Uno script inizia sempre con sha-bang, cioè il carattere cancelletto ed il carattere punto esclamativo. Per curiosità, sha sta per sharp, che è il nome inglese del diesis musicale, e bang è il nome con cui i vecchi informatici chiamano il carattere punto esclamativo. Questa è una reminescenza delle vecchie schede perforate, dove alla perforatrice faceva un rumore particolarmente forte quando doveva incidere il simbolo del punto esclamativo. Da qui, bang! Dopo lo sha-bang, occorre specificare il percorso completo dell'interprete dei comandi ad utilizzare per questo script. Per esempio, per uno script in Python scriverò userbinpython, mentre per uno shell script per bash, tradizionalmente è bin-bash. Se ti ricordi dal video Esploriamo il file system, recentemente le distribuzioni Linux hanno unificato le directory bin e userbin, ma hanno mantenuto le directory bin come simlink a userbin, proprio perché ci sono in giro una marea di script che come interpreto nello sha-bang hanno bin-bash, e cancellare le directory bin avrebbe rotto il loro funzionamento. Altra cosa, potresti trovare molti shell script che, come interprete nello sha-bang, hanno bin-sh. Attento qui, perché sebbene in alcune distribuzioni bin-sh non è nient'altro che un simlink a bin-bash, in altre distribuzioni, per esempio quelle basate su Debian, bin-sh in realtà è la shell dash, cioè la Debian Anquist Shell, e se tu usi certe funzionalità tipiche di bash, che non sono presenti in dash, allora il tuo script non funzionerà. Dopo aver specificato l'interprete da utilizzare, applichiamo il bash strict mode, cioè i comandi set-eu-pipe-fail, e ifs uguale dollaro slash n slash t. Questi due comandi in realtà sarebbero opzionali, ma aumentano la robustezza degli script facilitando il debug nel caso qualcosa vada storto, e semplificando anche qualche comando come vedremo a breve. Il comando set-e indica bash di terminare l'esecuzione dello script nel caso uno dei comandi eseguiti non vada a buon fine. Set-u indica bash di generare un errore nel caso tentiamo di utilizzare variabili non definite. Set-u pipe-fail indica a bash di generare un errore nel caso un qualsiasi comando all'interno di una catena di pipe generi un errore. La linea ifs uguale dollaro slash n slash t non fa nient'altro che settare la variabile internal field separator ai caratteri di newline e tab. La variabile internal field separator è quella che controlla quali sono i caratteri con cui bash separa gli argomenti dopo un'espansione. Se ti ricordi nei video precedenti abbiamo dovuto racchiudere le variabili tra doppi apici per evitare che, nel caso una variabile contenesse degli spazi, questi vengano interpretati come argomenti separati. Togliendo il carattere spazio dall'interno al field separator ecco che non c'è più bisogno di ricordarsi di mettere le variabili tra doppi apici. A questo punto facciamo che scrivere il costrutto for dello scorso video per convertire i file png in jpeg omettendo già i doppi apici per le variabili che tanto non ce n'è più bisogno. Salvo ed esco. A questo punto faccio che cancellare tutte le jpeg giusto per essere sicuri che lo script appena creato effettivamente crei delle nuove jpeg. Per eseguire lo script è necessario dargli il permesso di esecuzione come abbiamo visto in uno scorso video. Se eseguiamo lo script vedi che nuovamente ho convertito tutte le immagini png contenute nel directory corrente in jpeg. Uno script del genere però è di poca utilità perché è poco flessibile. Andiamo a cambiarlo di modo che, al posto di convertire tutte le png nella directory corrente, vado a convertire tutte le png passate agli eccomaparametri. Nella shell bash i parametri passati ad uno script o ad una funzione vengono memorizzati nella variabile dollaro-chiocciola. Quindi basta sostituire asterisco.png con dollaro-chiocciola ed il gioco è fatto. Già che siamo in vena di programmazione ti dico che il carattere cancelletto è un commento, cioè del testo che la shell ignora bellamente, ma è utile per spiegare cosa fa un certo script o una certa funzione all'interno dello script. Salviamo e usciamo, cancelliamo nuovamente tutte le jpeg per sicurezza ed eseguiamo lo script. Ma questa volta voglio mostrarti una cosa molto comoda per il debug. Se tu esegui lo script usando il comando bash-x, nome dello script da eseguire, quindi il nostro jpg from png.sh, e poi i parametri da dare allo script, quindi in questo caso asterisco.png per indicargli tutte le png della direttore corrente, vedi che su standard output hai ogni singolo passo dello script man mano che viene eseguito. E questo è molto comodo per capire, nel caso qualcosa vada storto, qual è il punto all'interno dello script in cui qualcosa è andato storto. Ad ogni modo, ora, visto che abbiamo parametrizzato lo script, possiamo fare una bella cosa. Intanto cancelliamo tutte le jpeg, ma anche tutte le png giusto per fare pulizia. Possiamo usare il comando find in pipe con xargs, come abbiamo visto nel video precedente, per prendere le immagini png da user share backgrounds e tutte le sue sottodirectorie, e convertirle in delle jpeg nella directory corrente. E vedi il risultato del comando nella directory corrente. Questa è solo una minima parte di quanto è possibile fare con gli shell script, visto che la shell è un linguaggio di programmazione completo, con i vari costrutti if, for, while, case, funzioni, variabili, valori di ritorno e quant'altro. Ma per qualunque operazione più complessa di quanto mostrato in questa serie di video, io preferisco usare un linguaggio di programmazione più serio, tipo python. Come già detto all'inizio, con questo video concludo la serie Impariamo la linea di comando. Spero che questa serie ti sia stata utile. Grazie dell'attenzione. Ti ricordo che trovi i miei video sia su YouTube che su Odyssey. Trovi tutti i link in descrizione. Al prossimo video. Ciao! Io l'ho chiamato JPG. Non fa nient'altro che serie A.